E poi vorrei ringraziare ovviamente anche AZ Blues e tutta l'associazione che ha aiutato AZ Blues e che insomma che ha organizzato tutto questo fantastico festival di cui siamo credo arrivati alla conclusione, no? Cioè questa è l'ultima serata. Quindi vorrei che faceste prima di tutto un grande applauso a tutti gli artisti che hanno suonato in questi tre giorni, venerdì, sabato e domenica, li avete trovati per strada, me compreso, li avete guardati al cinema, li avete fatti qua, spero vi abbiano fatto divertire tutti, alla grande, che vi siate divertiti e spero che continuerete, anzi per More Bronski ne sono convinto e spero che sia così anche per me, spero che vi divertirete anche questa sera. Grazie a tutti, davvero di cuore. Se volete darmi una mano, io in questi due giorni ho suonato con la mia band, quindi con batteria e basso, che non ci sono stasera, sono già tornati a Milano, però su questo pezzo se potete darmi una mano ritmicamente vi ringrazio di cuore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.